Sono tutti troppo d'accordo, adesso tiro fuori il tema, un tema che abbiamo tirato fuori anche in Agorà, che divide sempre molto. Cosa ne pensi dell'incesto? Ah, ma lo sai che in realtà io non sono contro l'incesto? Io non lo penso come te. Incredibile. Niente. Non riesco a creare un... Ivan, te lo giuro, io ti voglio fare un corto sull'incesto, con la mia università, perché io credo che il fatto che le persone trattino l'incesto come un tabù sia... Se ci sente Max si arrabbia, perché ci ho fatto una discussione in privato con Max e con Anna, perché loro lo vedono proprio come una cosa assolutamente no. Io assolutamente lo vedo come una cosa che va normalizzata, e anzi io credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l'incesto sia ancora visto come un tabù, perché... Basta che si venga fatto utilizzando protezioni e non per riprodursi, chiaramente. Certo, assolutamente sì. Spieghiamolo bene, perché se no ci dicono che siamo matti. La mia idea, poi anche la tua ovviamente, io non ne farei una battaglia del tipo regolamentiamo l'incesto, come tipo le droghe leggere o l'eutanasia, eccetera. Semplicemente lo tollerò, ecco. È una cosa che tollero, che se un mio amico di 25 anni mi dicesse, ieri ho fatto sesso con mia madre, protetto, in modo consensuale, non mi scandalizzerei, non gli direi sei un eretico, allontanati da me, fai schifo. Grazie. 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 Grazie.